Grazie Avanti, avanti, avanti Un po' più sotto, un po' più sotto Grazie Grazie Anna da sola Anna da sola Anna da sola Anna da sola Anna qua grazie Anna qua qua Anna 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 Scusi Stiamo facendo un'intervista Ah va bene, dove? Lì? Ciao Anna Sì Possiamo lasciare il ragazzo sotto? Sì È il mondo femminile Quindi Anna 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 Grazie A posto Grazie Grazie